Cara Cancra, sto guardando le tue foto del passato, stai ancora riguardo al passato tu? Ah ecco, qua è quando hai fatto la gita più bella della tua vita che t'ha portata alla Dispoli? 8 ore in macchina nel traffico siete stati, e avete pure litigato? Ma la vuoi finire con questo qui? E mollano una volta per tutte, no? Ma che te frega? Tanto, guarda, adesso io vado in gemelli un attimo e poi dopo arriverò pure nel segno tuo e sapresti quanti ne trovi Di deficienti così ne trovi tanti, guarda, mi raccomando, non essere stupida e non pensare al passato, ciao